E' andata bene la quindicesima giornata di campionato per il Pianeta Sport Volley, che si è imposto ad Avellino con un buonissimo 3-1 sabato scorso presso la palestra Adamo. Una vittoria questa, seppur importante, certamente non goduta fino in fondo. Gli avversari sono scesi in campo con il lutto al braccio e la tristezza nel cuore, causa la prematura scomparsa del loro mister, Alberto Matarazzo. E questo non ha lasciato di certo indifferenti i ragazzi del Pianeta Sport, che con rispetto si sono uniti al minuto di raccoglimento prima della gara. L'inizio aveva fatto presagire a una gara a favore dei metelliani, che hanno concluso il primo parziale sul risultato di 19-25. Anche il secondo tempo è stato ad appannaggio dei ragazzi di Mister Ferrara, con i padroni di casa, questa volta decisi a giocarsela punto su punto, ma non è bastato. Il secondo parziale si è così concluso a favore dei cavesi per 23-25. Nel terzo set, il sestetto di Mister Ferrara rallenta leggermente la corsa, permettendo agli erpini di rientrare in partita e di concludere il set a proprio favore, 25-23. Nel quarto set, il Pianeta Sport ha tirato fuori tutta la grinta, espugnando il campo della tripalda con una prestazione da squadra concreta ed efficace, per 19-25. Nel post-gara, coach Ferrara ha dichiarato Buona prova del gruppo, ben gestiti da un grande colace, un incisivo manzo, ma soprattutto un superbo della mura, migliore in campo, che nei momenti caldi ha inferto dei colpi pesanti agli avversari. Archiviato questo risultato positivo, i ragazzi sono tornati in palestra ad allenarsi, in vista del prossimo match tra le mura amiche contro gli ebolitani. Grazie.